è reale pure è reale pure la è reale pure la non riesco a riprendere normale i mini maglialini old mcdonald's tractor fun che bellissimo questo fa mettere tutto su youtube la gente si ringgoglionisce è reale it's real quanto bello ti vorrei andare a fare silver star andiamo a farlo proprio una foresta una foresta un arthur e la balloon fart per finire perché arthur? perché è lì? sono è è è è è è è è Grazie a tutti.